Come neve al sole una parte a ridosso della scala dei Turchi lungo la costa di Real Monte in provincia di Agrigento crolla ancora. Lo denuncia l'associazione Mare Amico. Una porzione della falesia di Marne è venuta nuovamente giù precipitando sulla spiaggia fortunatamente deserta, prosegue la nota. Ed osserva, mentre Comune e Un Privato discutono nelle opportune sedi sulla titolarità del bene, solo la procura agito. Infatti già il 27 febbraio dello scorso anno prudentemente ne aveva opportunamente inibito la fruizione. Questa decisione del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha attirato molte critiche, ma ha considerato quanto continua ad accadere periodicamente tutelare la vita con decisioni impopolari. È un atto coraggioso. Di fronte alle lungaggini burocratiche, giudiziarie e naturalmente quelle politiche, ad Agrigento paradossalmente spesso la procura a prendere decisioni drastiche a protezione della vita, afferma Claudio Lombardo dell'associazione ambientalista Mare Amico. Come nel caso del ponte Morandi di Agrigento, chiuso dall'ANAS solo a seguito di un'indagine della procura osserva, prima che potesse seguire il destino del suo gemello di Genova. Mentre nelle aule giudiziarie si discute sulla proprietà, la Scala dei Turchi risponde sgretolandosi. La Scala dei Turchi è un monumento naturale bellissimo ma fragile. Se lo si vuole riaprire alla pubblica fruizione è necessario prima metterla in sicurezza. Bene ha fatto il procuratore capo della Repubblica di Agrigento, il dottor Luigi Patronaggio, a porlo sotto sequestro per impedirne la fruizione. Prevenire è meglio che curare.